Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi come di consueto andremo a valutare le strategie del nostro portafoglio che hanno portato i migliori risultati nell'ultimo periodo. Io sono Alessandro Danos, coach alla Unger Academy, dove sviluppiamo strategie automatiche per poi utilizzarle sui principali mercati futures come l'oro, indici azionari e molto altro ancora. Oggi però vedremo due strategie che di recente si sono ben comportate sul mercato dell'S&P 500 che proprio nella giornata di oggi sta facendo registrare movimenti molto interessanti. Vediamo qui il workspace contenente tutte le strategie sull'S&P 500 del database personale di Andrea Unger, ma oggi voglio farvene vedere due che in particolar modo si stanno facendo notare per i loro trade, buoni trade, nelle ultime settimane. Partendo da questa strategia che vediamo adesso, è una strategia di tipo trend following intraday che quindi chiuderà le posizioni al massimo entro la fine della sessione, come è stato il caso per esempio di questi ultimi trade e come sarà per esempio anche il caso di questo trade che è stato aperto in concomitanza o subito dopo la fuoriuscita dei dati sull'inflazione che hanno scatenato. Vedete questa grande volatilità e il mercato ha fatto ben 50 punti all'insù e questa strategia ha deciso comunque di continuare a seguire il trend e a fine della giornata poi chiuderà la posizione. Andando a vedere il report di questa strategia, vediamo che è una strategia che ha vissuto momenti sia non belli sia momenti molto invece molto positivi come infatti sono stati gli ultimi due anni. È una strategia che è stata sviluppata nel 2017, più o meno potremmo dire in questo punto qui, è che diciamo dopo una prima fase iniziale in cui la strategia aveva funzionato anche parecchio bene, c'è stato un brusco drawdown, un rallentamento di questa strategia che poi è culminato diciamo verso la fine del 2021 e da quel momento in poi la strategia ha saputo recuperare il terreno perso in anellando una serie di profitti veramente molto interessanti. La strategia piazza ordini su due livelli calcolati a partire dall'open della sessione e sono calcolati come semplicemente come una distanza dal prezzo di apertura calcolata sulla TR. Quindi se a partire dall'apertura il mercato farà dei movimenti verso l'alto pari a un numero di volte il valore della TR, ecco che la strategia entrerà al mercato long. Tornando sul report di questa strategia possiamo vedere che essendo una strategia intraday non arriva ad avere un average trade particolarmente elevato. In questa strategia abbiamo già aggiunto i costi commissionali e lo slippage che si andrebbero a pagare live, operando live su questo mercato. In particolare abbiamo inserito 30 dollari a operazione che quindi comprende sia il trade d'ingresso sia il trade di uscita. Vedete che diciamo questo tipo di logica, quella trend following, su questo mercato funziona quasi meglio e più efficace, potremmo dire, sul lato short. Infatti l'average trade del lato short è più grande rispetto all'average trade del lato long e questo è tutto dire su un mercato come l'S&P 500 che sappiamo avere un bias realsista molto pronunciato. Passiamo adesso alla strategia successiva che voglio mostrarvi, anch'essa si è comportata bene nell'ultimo periodo. È una strategia che potremmo definire ibrida, nel senso che il lato long di questo sistema entrerà con logiche mean reverting, reversal, quindi come è stato il caso di questi ultimi due trade, con il mercato che scendeva, la strategia prova ad acquistare. In questi casi non è andata molto bene, c'è stato uno stop loss da 1.300 dollari e poi un break even che chiaramente con i costi equivale poi a una perdita di 30 dollari e poi un bellissimo trade short che, a differenza del lato long, entra invece seguendo quello che è il trend del mercato. Più o meno come entrava la strategia precedente, quindi se a partire dall'open della giornata assistiamo a un movimento verso il basso fino a un determinato livello, ecco che questa strategia, calcolato sulla TR, ecco che questa strategia entra a mercato short. In questo caso il trade ha avuto esito molto positivo con un net profit di 3.020 dollari. Anche questa strategia out of sample dal 2018, quindi potremmo dire più o meno ecco da questo punto qui, vedete che ha risposto molto bene anche nel periodo post sviluppo e si trova su quelli che sono i massimi di equiti. In questo caso la strategia, essendo multi day, arriva ad avere un average trade molto più capiente, siamo su 268 dollari, ben bilanciati i trade tra long e short. Su questo mercato consigliamo comunque un numero maggiore di trade long rispetto a quelli short perché chiaramente con un buy and hold di questo tipo sarà molto più difficile andare a individuare i migliori momenti per shortare questo mercato. Negli ultimi due anni questa strategia è riuscita a portare a casa circa 24 mila dollari, al netto come detto delle commissioni e dello slippage, che diciamo fanno il paio con l'altra strategia che anch'essa negli ultimi due anni ha vissuto un momento molto favorevole con dei ritorni superiori ai 30 mila dollari.